Firmato il nuovo DPCM nella notte di ieri, il Premier Conte resiste al pressing finale delle regioni e decide per un regime di chiusura differenziata, a seconda della fascia di rischio di contagio da Covid-19. La richiesta numero uno dei governatori regionali restano i ristori. Conte assicura il degreto sarà varato in settimana e le erogazioni saranno tempestive, anche se la cifra di 1,5 miliardi probabilmente non basterà. Novità rispetto alla bozza di ieri pomeriggio su barbieri e parrucchieri, che potranno restare aperti anche nelle regioni rosse. Il DPCM andrà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. Conte ha deciso, il coprifuoco scatterà su tutto il territorio nazionale alle ore 22. Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. In ogni caso fortemente è raccomandato a tutte le persone fisiche per tutto l'arco della giornata di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, ha affermato il Premier. Importante e stretta nelle regioni a massimo rischio, dove resteranno chiuse anche attività di ristorazioni, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e anche i mercati. Didattica a distanza al 100% per le superiori, mentre tornano in presenza le attività didattiche per scuola dell'infanzia, elementari e medie, con uso obbligatorio di mascherina, salvo per bambini di età inferiore ai 6 anni. Il Premier Conte non chiude circoli sportivi tranne nelle zone russe, ma vieta l'uso degli spogliatoi. Sospese comunque l'attività di palestre e piscine. L'attività sportiva di base e l'attività motori in genere, svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, conclude il Presidente del Consiglio. Grazie a tutti.